Cos'è un masher? Un masher è un conduttore di candaslip. Siamo Luca e Anselmo e abbiamo deciso di lanciarci in questa avventura. Attraverseremo laghi yacciati, passeremo attraverso Fjallet, montagne svedesi, e dormiremo fuori in bivacco in mezzo alla natura e con i nostri cani. Speriamo che in cima non ci sia tanta nebbia perché non abbiamo più punti di riferimento. Una cosa che ci accomuna è il desiderio di avventura. Si lasciano a casa le certezze di tutti i giorni, le comodità. Si entra in una dimensione nuova che è quella un po' dell'ignoto. Grazie. 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 Grazie.